Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. A volte l'uomo che una donna ama con tanta devozione, magari il padre dei suoi figli rappresenta proprio la più grande minaccia per la sua vita. Come la luna, l'amore ha tante fasi ma non può mai esistere nell'ombra dei sopprusi. È il 2016 e ci troviamo a Milton Keynes, una città del Regno Unito, del sud-est dell'Inghilterra, nel Buckinghamshire, creata 50 anni fa sviluppando un design urbano futuristico. La protagonista del caso di oggi si chiama Natalie Hemming, nasce nel 1985 e all'epoca del caso ha 31 anni. Sua madre si chiama Margaret, mentre non è noto il nome di suo padre. Natalie è la figlia più giovane, ha due sorelle e due fratelli, Carrie, Joan, Stephen e Sean. Fin da piccola, Natalie esibisce un carattrino sfacciato, talvolta litiga con i fratelli, ma prova tanto affetto per loro, infatti quando diventano adulti rimangono in contatto. La sorella, Joanne, descrive Natalie come una persona autoritaria e schietta, ma che sa essere anche gentile e premurosa. Natalie ama molto leggere a scuola, le sue materie preferite sono storia e inglese e le piace anche ballare. Nel 2007 Natalie ha già una figlia piccola, nata da un matrimonio che presto aveva avuto fine. È in questo periodo che incontra Paul Hemming, che in futuro le darà il suo cognome, anche se i due non si sposeranno mai. I due si conoscono in un supermercato e iniziano a chiacchierare per caso, si piacciono e decidono di programmare un appuntamento. La loro relazione progredisce velocemente, presto vanno a vivere insieme e Paul diventa il patrigno della figlia di Natalie. La coppia sembra davvero felice, tuttavia la famiglia di Natalie considera Paul come un tipo freddo, scostante, per nulla amichevole, ma cerca di non farglielo pesare. Se Natalie è felice, anche i suoi cari lo sono. Paul non è particolarmente ricco, ma ha una situazione finanziaria stabile, un buon lavoro, una bella casa e una bella macchina. La relazione prosegue e la coppia mette al mondo due figli, primo un maschio e poi una femmina, a circa tre anni di distanza. I bambini all'epoca dei fatti, cioè nel 2016, hanno sei e tre anni, mentre la figlia di Natalie, nata da quel matrimonio finito male, ne ha dodici. In questo periodo il rapporto di Natalie e Paul attraversa delle turbulenze. La famiglia di Natalie continua a non vedere di buon occhio Paul, perché lui si comporta in modo strano. Ad esempio, mentre erano in corso i preparativi del matrimonio della coppia, Paul, un giorno, all'improvviso, ha deciso di annullare le nozze senza neanche dirlo a Natalie. Inoltre, non si presenta al battesimo dei due bambini. Paul è un uomo patito per l'esercizio del controllo. Se deve fare qualcosa, lo fa alle sue condizioni, dirigendo ogni singolo aspetto della sua relazione con Natalie. La sottopone a una continua pressione emotiva e mentale. Ma non solo. Paul è fisicamente violento nei suoi confronti fin dai primi mesi della loro relazione. Nel 2007, l'anno in cui si erano incontrati, Paul e Natalie avevano avuto un litigio e lui si era mostrato aggressivo e manesco. Natalie aveva ricevuto un sms e Paul gli aveva afferrato il cellulare per poi lanciarglielo contro, colpendole la testa con violenza. Natalie stava soffrendo, sanguinava e aveva chiesto a Paul di chiamare un'ambulanza o di portarla all'ospedale. Ma lui si era rifiutato categoricamente. Piuttosto aveva continuato ad attaccarla, l'aveva spinta sul letto e l'aveva messo una mano intorno al collo. Soltanto alla fine l'aveva lasciata andare e aveva accettato di portarla in ospedale affinché un dottore le medicasse la ferita alla testa. Durante il tragetto in macchina, però, Paul aveva minacciato Natalie. Non doveva raccontare ai metici che quella ferita gliel'aveva procurata lui. Natalie aveva obbedito, ma qualche tempo dopo aveva trovato il coraggio di contattare la polizia e denunciare l'aggressione. Tuttavia, meno di un mese dopo, Natalie aveva revocato la denuncia, sottolineando che non lo faceva perché stava ricevendo pressioni da parte di Paul, ma probabilmente mentiva. Lei continuava ad amarlo e non voleva rinunciare alla relazione, sperava che le cose tra loro potessero funzionare. Ma, se il fidanzamento prosegue, lo stesso fanno gli abbi di Paul. Lui si mostra ancora violento e offensivo, anche se Natalie col tempo diventa abile a nascondere questo suo lato oscuro. Non ne parla nemmeno con i propri familiari, ma loro immaginano che qualcosa non vada, anche se non si aspettano una così cruda realtà. Paul quindi l'ha fatta franca, nessuno conosce la sua vera natura e lui continua a esercitare un pieno controllo su ciò che fa Natalie. Sul suo cellulare per leggerne i messaggi e persino sui suoi soldi, Natalie non può mai decidere come spenderli. Durante uno dei suoi scatti di rabbia, Paul aveva lanciato anche una bottiglia di vetro contro Natalie e la polizia era stata coinvolta, pure in questo caso. Così Natalie e i bambini erano andati a stare da Margaret, la madre della donna per un po'. Nel 2013 Natalie era scappata dagli accusi di Paul, che l'aveva colpita a un occhio e alla testa con una bottiglia. Natalie aveva fatto le valigie ed era partita con i figli, diretta nello Yorkshire, dove viveva sua sorella Joanne. Finalmente Natalie aveva trovato il coraggio di confidarsi con una persona fidata, raccontandole come si comportava Paul. Tuttavia Paul l'aveva seguita, non l'avrebbe mai lasciata andare così, e si era presentato a casa di Joanne. Aveva implorato Natalie di tornare a casa con lui, le aveva promesso che sarebbe cambiato, che non l'avrebbe più trattata male. E Natalie purtroppo gli aveva creduto, aveva deciso di dare una possibilità alla loro relazione, ed era tornata con lui nella casa a Milton Keynes. Sua sorella Joanne aveva provato, in vano, a fermarla. Tuttavia per Natalie, la goccia che fa traboccare il vaso cade proprio nel 2016. Dopo aver subito anni e anni di abusi, di controllo ossessivo e di violenza, la donna lascia Paul, questa volta, per sempre. Natalie spiega tutto alla sua famiglia, racconta che lei e Paul non stanno più insieme, sostiene addirittura che abbiano preso questa decisione di comune accordo. Sia lei che Paul sono consapevoli che la loro relazione ormai non funziona. Progettano addirittura di affittare la loro casa. Paul avrebbe cercato un appartamento per sé, mentre Natalie avrebbe trovato un'altra dimora per lei e i suoi tre figli. La famiglia di Natalie individua in lei un cambiamento che aspettava da tempo, la ritrova rafforzata nel carattere decisa. Riescono a rivedere la vecchia Natalie, che gli amici subiti avevano trasformato in una persona remissiva e triste. Ma ora che sta progettando di allontanarsi da Paul, Natalie sembra aver ritrovato il suo spirito ottimistico, sorride spesso, progetta con entusiasmo il futuro. Eppure, nella primavera del 2016, Natalie scompare improvvisamente. È il 30 aprile e Natalie lascia i suoi tre figli a casa della madre Margaret. I ragazzini dormiranno dalla nonna, in quanto Natalie ha un appuntamento. Sta frequentando un ragazzo di nome Simon, conosciuto sul posto di lavoro. I due sono colleghi in una concessionaria di automobili locale ed erano già amici da qualche tempo. Simon era sempre stato gentile con Natalie e, ora che la storia con Paul è finita, hanno deciso di provare a frequentarsi. Dunque, la sera del 30 aprile, Natalie lascia i bambini da sua madre. Simon la va a prendere, vanno a cenare e poi in un bar a bere qualcosa. Infine, Natalie passa la notte con lui. Ma la figlia più piccola di Natalie non riesce proprio a dormire a casa della nonna, così Margaret decide di contattare Paul, che va a riprendere la figlia. Quando arriva a casa della suocera, Paul si accorge che l'auto di Natalie è parcheggiata di fuori. Natalie aveva detto sia alla madre sia a Paul che quella sera sarebbe uscita con degli amici. Nessuno quindi sapeva dell'appuntamento con Simon, ma Paul si insospettisce. Perché Natalie non è andata con la sua macchina? Margaret dice a Paul che non era il caso che Natalie si mettesse alla guida, perché magari in compagnia degli amici avrebbe bevuto qualcosa, quindi era andata in macchina di uno di loro. Il giorno seguente, il primo maggio 2016, Natalie viene riaccompagnata a casa della madre. Prende i due bambini che sono rimasti dalla nonna e intorno alle 13.30 torna Milton Keynes. Natalie e Paul, nonostante si siano lasciati, vivono tuttora insieme perché non hanno ancora trovato degli appartamenti adatti dove trasferirsi. Ognuno per conto proprio. Verso sera, Margaret prova a chiamare la figlia per assicurarsi che sia tutto a posto. Tuttavia, Natalie non risponde al telefono e non la richiama, cosa che si ripete anche il giorno seguente. Margaret attende il giorno ancora successivo e riprova a contattare la figlia, ma Natalie non risponde mai e sua mamma ormai si preoccupa. Questo silenzio prolungato è strano. Lei e Natalie si sentono sempre almeno due volte al giorno, mattina e sera. Il 3 maggio, Margaret contatta la figlia Joanne. Le dice che non riesce a sentire Natalie e non sa cosa stia succedendo. Anche Joanne si allarma subito perché reputa strana questa sparizione della sorella. La famiglia di Natalie è in tensione e un paio di cugini decidono di andare a casa di Natalie per controllare di persona. Quando arrivano notano che la macchina di Natalie e quella di Paul sono entrambe parcheggiate nel vialetto. Bussano alla porta e dopo un po' Paul apre, ma è riluttante a far entrare i parenti di Natalie in casa. Nonostante ciò, i cugini della sua ex insistono non se ne andranno fino a quando lui non li farà entrare. Così Paul li fa cedere contro voglia. Verificata l'assenza di Natalie, i suoi cugini chiedono a Paul dove sia e lui risponde che lei ha deciso di andare via per qualche giorno. Ma la famiglia della donna continua a essere dubbiosa visto che la macchina di Natalie è parcheggiata davanti a casa. Poi, ammesso che Natalie avesse deciso di partire, perché non l'aveva detto alla sua famiglia? Almeno a sua madre, con cui parlava ogni giorno? E ancora, non è da Natalie lasciare i bambini da soli con Paul per giorni. Non li aveva affidati a lui nemmeno la sera in cui era uscita con Simon, infatti li aveva portati da sua madre. La storia di Paul è poco credibile, anzi, oserei dire insensata. La famiglia di Natalie prova una sensazione terribile, quindi Margaret chiama la polizia e denuncia la scomparsa della figlia. Durante la telefonata dice la gente che, secondo lei, l'ex compagno di Natalie, Paul Hemming, potrebbe avere a che fare con la scomparsa improvvisa della figlia. La polizia quindi ha già un sospettato e si reca immediatamente a casa della coppia per parlare con Paul. Gli chiedono di poter fare un giro veloce della casa. Non individuano Natalie. Allora si siedono con Paul per fargli qualche domanda. Quando è l'ultima volta che hai visto Natalie? Com'era la vostra relazione? Possiamo dare un'occhiata al tuo telefono? Paul è riluttante, non vuole consegnarlo e dice alla polizia che preferisce tenerlo perché Natalie potrebbe chiamarlo. La polizia allora prova a rintracciare il telefono di Natalie per esaminare le attività, ma scopre che il suo cellulare non era più stato utilizzato da quando Natalie era tornata a casa, dunque dal primo maggio, dopo aver ripreso i figli dall'abitazione della madre. Anche sul suo conto bancario non si registrano movimenti recenti, ma se Natalie fosse andata via per qualche giorno magari avrebbe avuto bisogno di prelevare dei contanti o di pagare usando la carta. Invece non risulta nessuna spesa neanche per ristoranti o alberghi. Questa situazione rende Paul sospetto e il suo comportamento alimenta i dubbi. Come detto è contrario alla consegna del telefono e inizialmente anche alla perquisizione della casa, sostenendo che i bambini stessero dormendo. Inoltre nel rispondere alla polizia risulta sempre evasivo. All'inizio dell'indagine la polizia elabora diverse teorie su cosa possa essere accaduto a Natalie. Ipotizza qualora si fosse davvero allontanata di sua spontanea volontà, che forse poi era stata aggredita o rapita da uno sconosciuto. Ma la teoria predominante rimane che Paul, l'ex compagno violento della donna, sia il responsabile della sua scomparsa. Così la mattina successiva alla denuncia di scomparsa di Natalie, le autorità decidono di arrestare Paul con l'accusa di omicidio. La prima cosa che Paul dice appena viene arrestato dipanna altri dubbi. Cioè, avete trovato Natalie? Dopo l'arresto di Paul, i figli di Natalie vengono accuditi da Margaret e iniziano le ricerche. La famiglia della donna si rivolge ai social media per diffondere la notizia della sua scomparsa. La polizia fa visita ai vicini di Natalie e Paul nella speranza che abbiano visto qualcosa di sospetto. Nel frattempo, in centrale, Paul viene sottoposto a un interrogatorio e racconta la sua versione dei fatti. Spiega la polizia che nel pomeriggio del primo maggio, Natalie è tornata da casa di sua madre con i figli. In serata, i bambini sono andati a letto, cosa che intorno alle 21 ha fatto anche lui. Natalie invece è uscita di casa dicendo che sarebbe stata via per qualche giorno. Questa, se ricordate, è la stessa versione che Paul ha raccontato ai parenti di Natalie, ma stavolta decide di andare più a fondo nella questione. Paul spiega che c'è una ragione precisa per cui Natalie ha voluto allontanarsi. Aveva subito violenza intima. Quel pomeriggio, lui aveva notato il suo turbamento e gli aveva chiesto il motivo. Lei allora gli aveva confidato che la sera prima era uscita con un collega, Simon. Una volta a casa del ragazzo, lui aveva insistito parecchio per avere un rapporto intimo. Natalie gli aveva detto di no svariate volte, ma alla fine aveva ceduto per paura. Dopo l'evento traumatico, Natalie aveva deciso di andare via per un po' per schiarirsi le idee, per elaborare l'accaduto. Paul aveva deciso di supportarla nella sua necessità, garantendo che si sarebbe preso cura a lui dei bambini. Quindi Natalie era uscita e lui era andato a dormire, senza mai lasciare la propria casa quella notte. O almeno, così dice. Tuttavia, la storia della violenza intima viene presto smentita. La polizia infatti scopre che la mattina dopo il suo appuntamento con Simon, Natalie aveva mandato un messaggio a un'amica per raccontarle di lui. Scriveva che Simon era stato fantastico la sera prima, che si erano divertiti un sacco insieme e che avevano avuto un paio di rapporti intimi altrettanto fantastici. La polizia controlla anche le telecamere a circuito chiuso delle zone in cui Simon e Natalie si sono recati quella sera. Eccoli i due, si tengono per mano, si baciano, Natalie sorride, sembra così felice. Quindi Paul viene contraddetto dalle prove. Aveva cercato di incastrare Simon deviando su di lui l'attenzione della polizia, che invece sospettava di lui. Tuttavia la versione di Paul fa acqua anche da altre parti. Aveva affermato di essere andato a letto alle 21 quella sera e di essere rimasto a casa tutta la notte. Ma ha mentito, infatti l'automobile di Paul è immortalata dalle riprese di un paio di telecamere. È stato possibile verificarlo grazie al riconoscimento della targa, dunque la macchina è stata avvistata prima alle 22.15, poi in un altro tratto nelle ore successive. Purtroppo, dato che era notte fonda, le telecamere non riescono a inquadrare dettagliatamente il conducente del veicolo. Ma quella è senza dubbio l'auto di Paul. La polizia teme che durante quella notte Paul si sia liberato del corpo di Natalie, dopo averla uccisa. Quando la polizia parla con i figli di Paul e Natalie, il bambino di sei anni, ricorda di aver sentito la notte della scomparsa un'esplosione così forte da sembrare un tuono, anche se non sa dire a che ora l'aveva avvertita. In ogni caso si era alzato dal letto ed era sceso al piano di sotto per vedere cosa fosse successo. Aveva sbirciato nel soggiorno della fessura della porta e aveva visto la sua mamma avvolta in una coperta. Per il bimbo stava dormendo, ma la polizia ipotizza che Natalie avesse già perso la vita quando suo figlio l'aveva vista. Quel forte boato poteva corrispondere a uno dei colpi con cui Paul aveva ucciso Natalie. Il bambino aveva notato anche una ciotola per terra e dice alla polizia che il suo papà stava facendo le pulizie. Poi ricorda che dal soggiorno era sparito un grande tappeto rosso lì disposto. Suo padre Paul più tardi gli aveva detto che lo aveva portato con sé al lavoro per pulirlo. Ora i pezzi del puzzle stanno effettivamente ricomponendo un quadro dell'orrore. Probabilmente Natalie era stata aggredita e uccisa nel soggiorno e in seguito Paul aveva cercato di pulire la scena del crimine per eliminare ogni prova. Tuttavia non l'ha ripulita a dovere perché sul tavolino e sul pavimento del soggiorno una squadra forense trova delle tracce di sangue che si rinvengono anche nel bagagliaio dell'automobile di Paul. Questi elementi suggeriscono alla polizia che dopo aver ucciso Natalie Paul avesse infilato lì il suo corpo. Gli investigatori in realtà non hanno dubbi che Paul ha ucciso Natalie. Il 6 maggio 2016 Paul viene accusato di omicidio ma il caso non è ancora chiuso la polizia deve trovare il corpo di Natalie. Paul continua a sostenere di non essere colpevole e rimane fedele alla sua prima versione traballante e improbabile come dimostrano le prove raccolte dagli investigatori. Tornando alle riprese della macchina di Paul fornite dalle telecamere queste ovviamente supportano le indagini. L'automobile come detto appare da prima alle 22.15 a circa 10 miglia di distanza da casa di Paul in una zona chiamata Whitchurch nella periferia di Ashbury. In un secondo video la vettura viene ripresa quasi due ore dopo a mezzanotte e sei sulla strada verso casa. In questo intervallo di tempo dalle 10 a mezzanotte la macchina di Paul non è stata immortalata da nessun'altra telecamera quindi la polizia non ha idea di dove si sia diretto. È possibile che Paul non abbia percorso le strade principali proprio per evitare le telecamere ma è complicato per la polizia localizzare il punto in cui avrebbe potuto abbandonare il corpo di Natalie. Per perquisire un'area così ampia vengono impiegate tre forze di polizia separate inviate in zone diverse. Passano alcune settimane ma ancora non c'è alcuna traccia di Natalie e la polizia teme che non l'avrebbe ritrovata mai più. Dunque gli investigatori devono provare a condannare Paul per omicidio senza aver trovato il corpo della vittima. Ma finalmente il 22 maggio dopo circa tre settimane da quando Natalie è stata vista in vita per l'ultima volta la polizia riceve la chiamata che sta aspettando. È stato ritrovato un corpo a circa 30 miglia di distanza in una zona chiamata Chandler's Cross nell'Earthforshire. È stato un contadino a scoprirlo. Stava falciando l'erba nel suo campo ma una volta arrivato al bordo del terreno vicino alla strada ha avvertito qualcosa di strano nascosto in una siepe. Così è sceso dal tosaerba per verificare, ha trovato il cadavere e ha chiamato immediatamente la polizia. Una volta sul posto i detective notano che il corpo è già in stato avanzato di decomposizione e quindi devono fare dei test per identificarlo. Tuttavia sono piuttosto sicuri che si tratti di Natalie e informano la famiglia degli sviluppi. L'analisi del DNA da conferma dei sospetti si tratta del cadavere della povera Natalie. È stata ritrovata senza vestiti e la polizia teorizza che Paul l'avesse spogliata proprio per ostacolare l'eventuale identificazione del corpo. La polizia riesce a determinare che il cadavere di Natalie si trovava lì dalla notte della scomparsa, ovvero dall'omicidio, quindi da tre settimane. L'autopsia stabilisce che Natalie riportava delle ferite sia alla testa che a un braccio, una frattura alla tempia destra e un osso del braccio rotto. La polizia ritiene che sia morta a seguito di un colpo alla testa e che si era ferita al braccio mentre cercava di proteggersi dall'attacco. Probabilmente aveva alzato il braccio proprio per schermare la testa dal colpo inflitto. Il processo contro Paul inizia nell'ottobre del 2016 e finalmente si dichiara colpevole, ammettendo che la versione raccontata sia agli inquirenti sia alla famiglia di Natalie era una bugia. Tuttavia Paul sostiene che non si è trattato di un assassino, ma di un incidente. Dunque si dichiara colpevole, ma di omicidio colposo. Paul racconta che la notte in cui Natalie è morta, loro due stavano litigando. Lui ha afferrato un uovo di Pasqua gioiello, un uovo Fabergé, e lo ha scagliato in aria finendo con il colpire Natalie alla testa. Paul sottolinea che non era sua intenzione farle del male, ma dopo la botta Natalie era caduta a terra morta. Così lui era stato assalito dal panico e aveva infilato il suo corpo in macchina. Aveva guidato per 30 miglia fino a raggiungere quella zona dell'Airfordshire dove aveva abbandonato il cadavere di Natalie. Tuttavia la polizia non crede che quello sia stato un omicidio colposo, bensì premeditato. Il movente del delitto è la gelosia. Paul aveva scoperto che Natalie la sera prima era uscita con un uomo, che aveva lasciato i figli a casa della madre per trascorrere la notte con lui e non con degli amici. Natalie aveva mentito e la sua automobile fuori dalla casa di Margaret lo provava e questo aveva fatto infuriare Paul, anche se lui e Natalie si erano lasciati. La notte seguente la aveva affrontata, accusandola di aver iniziato una nuova frequentazione. Avevano litigato e in uno scatto d'ira Paul aveva cominciato a picchiarla violentemente, come è accaduto in tanti altri episodi, ma stavolta massacrandola fino alla morte. Il patologo che si interfaccia con la corte spiega che era impossibile determinare quale colpo avesse causato il decesso esattamente a causa dell'avanzato stato di decomposizione del corpo di Natalie. In ogni caso, Paul aveva cercato fin da subito di insabbiare il delitto. Aveva pulito il soggiorno, cioè la scena del crimine, rimosso il tappeto macchiato di sangue, disposto il corpo di Natalie nel bagagliaio della sua macchina e poi era uscito lasciando i bambini da soli a casa dopo le 22. Aveva guidato per 30 miglia per poi lasciare il corpo senza vita e nudo della sua ex compagna, della madre dei suoi figli, nascosto in quella siepe dove era stato trovato tre settimane dopo. Infine aveva detto ai ragazzini il giorno dopo che la madre era uscita di casa di notte per far visita a un amico. Li aveva anche portati allo zoo per trascorrere una giornata in allegria. Ecco perché i detective respingono la dichiarazione di colpevolezza di omicidio colposo di Paul e portano avanti l'accusa di premeditazione. Durante il processo tutte le prove raccolte dalla polizia vengono presentate alla giuria che nel novembre del 2016 si esprime concordando con l'accusa e ritenendo Paul responsabile dell'omicidio di Natalie. Paul viene condannato all'ergastolo con una pena minima di 20 anni dietro alle sbarre. Non potrà beneficiare della libertà condizionale fino al 2036. Dopo la morte di Natalie i suoi tre figli iniziano a vivere con le sue sorelle maggiori. Joanne si prende cura delle due femmine mentre Carrie del maschietto. I bambini si trovano bene con le zie e questa è un'ottima notizia. La comunità di Milton Keynes per la sicurezza delle relazioni tra partner decide di fare una revisione per l'omicidio domestico di Natalie concludendo che le autorità avevano avuto e perso l'occasione di salvarla, di proteggerla visto che in passato la donna aveva denunciato per tre volte i maltrattamenti subiti alla polizia. Si scopre anche che nel 2013 Natalie era in contatto con una consulente indipendente per la violenza domestica perché se ricordate durante un litigio Paul l'aveva ferita a un occhio e alla testa. Inoltre, attenzione, le aveva anche detto voglio solo ucciderti. Tuttavia il consulente aveva passato il caso di Natalie al TAS, un servizio di consulenza mirato contro la violenza domestica. Ma il TAS non aveva approfondito suggerendo a Natalie di parlare con l'autore delle aggressioni quando era calmo. Credo che una risposta così inappropriata possa aver scoraggiato molto la povera Natalie rendendo la restia a denunciare gli a**i domestici subiti in futuro o addirittura conducendola a minimizzarli. Io ho finito di parlare in questo caso e come al solito questi casi mi lasciano dentro tanta amarezza perché trovo sia davvero assurdo che un uomo arrivi a uccidere la sua ex compagna con cui tra l'altro lui aveva scelto di lasciarsi perché aveva deciso di frequentare un altro uomo. Di mezzo c'erano tre bambini e quest'uomo si è sbattuto altamente di quei tre piccolini che meritavano assolutamente di continuare a stare con la madre. E invece fortunatamente questi bambini sono stati affidati alle sorelle di Natalie ma se Natalie non avesse avuto sorelle e Margaret magari non fosse stata abbastanza in forze per prendersene cura sarebbero stati dati in affidamento. Allora non credo che vivessero in un ambiente sicuro e protetto questi bambini perché se in casa c'è un uomo violento potrebbe diventare violento non solo con la compagna ma anche con i figli e questo purtroppo succede spesso. Però davvero trovo questi omicidi di un futile incredibili. Non è che se l'ammazzi torna insieme a te, è la cosa che davvero mi lascia senza parole è proprio questa. Si sono lasciati di comune accordo. Lei non l'ha tradito, ha iniziato a frequentare un'altra persona quando loro due avevano già deciso che la loro relazione non poteva continuare. E poi soprattutto rimango anche abbastanza perplessa dai comportamenti di quest'uomo. Che senso ha non presentarsi al battesimo dei tuoi figli? Che senso ha organizzare con la tua compagna un matrimonio e poi annullarlo senza dirle niente? Io vi giuro che queste cose non le capisco. Se riuscite voi a illuminarmi mi fate un favore. Quindi come al solito io vi aspetto qui sotto nei commenti. Sono curiosa di sapere quale sia la vostra opinione. Mi raccomando fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti. Io sempre pronta a leggervi tutti. Nel frattempo vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi. Continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene. Ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti.